Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. In A1 rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano, Sesto Fiorentino e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. È prevista neve in A1 tra Parma e il Bivio con la variante di Valico. Nevicata in atto sulla statale 12 della Betone del Brennero tra il Valico della Betone e Lama Mocogno e sulla statale 63 del Valico del Cerreto tra il Valico del Cerreto e Castelnuovo Nemonti. Sulla statale 477 dell'Alpe di Casaglia tratto chiuso in entrambe le direzioni per una valanga tra i chilometri 7 e 12 e 400 in località Alpe di Casaglia tra Palazzuolo sul Segno e il Passo Colla di Casaglia. È stato chiuso il Passo dei Mandrioli sulla statale 71 Umbro Casentinese Romagnola. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!